Sono polpette che so' un figlio, si sa My name is Tracy and I'm a little bit crazy Ed è il fantasma di Van Ruben I have built a magic of me Dai ragazzi, tutti insieme su, cantate con noi Sulle mani nuove, piedi, balla, come facciamo noi Touch your nose, clap your hands, scratch your belly And shake your hand, divertendo ti vedrai Che l'inglese imparerai Polpetta! Tracy! Tracy! Andiamo alla casa del cioccolato? Io adoro fare colazione da cioccoli io qui davanti mi sento davvero bene ci sono anche le facce di cioccolato di cioccolato di cioccolato di cioccolato di cioccolato di super fantastico super strepitoso cioccolato Trish, hai dei soldi? oh, wait a minute ma perchè toccano sempre a me i lavori più difficili buongiorno can i help you? signor choc noi vorremmo quei cioccolatini che soltanto guardarli fanno venire l'acquolina in bocca we'll have this one thank you hey don't open it è stato un miraggio this cost 8 pounds 8 sterline what? hey, what are you doing? oh, guardatrice ci sono anche i tartufoni don't sit down stand up children, I'm in a hurry cioccolatini ripieni di liquore alla ciliegia don't sit down cioccolatini ripieni di crema stand up ma io sono pulito mi sono lavato con Mastro Talpa children, I'm very busy goodbye, children io mangiare sempre cioccolatini a colazione, a pranzo e a cena come on, poffetta a come lento oh, che cos'è tutta questa agitazione? non mi fate venire il mal di mare look, no money money, they are looking for money abbiamo solo questa moneta oh 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 avevamo solo questa moneta tu non sei una pianta sei uno struzzo no no money ma deve esserci qualche soldino nascosto da qualche parte oh oh la mia limetta no no money dobbiamo trovare qualche soldino per comprare i cioccolatini oh can I help you? oh, è solo una castagna bruciacchiata ouch my head oh oh e qui sotto oh, non c'è niente oh smettetela di agitarvi tutti così tanto oh oh thank you tracy stand up ruby it is no time to sleep oh mozzo grasso e peloso smetti di agitare ma io veramente sit down and read your newspaper find a little job and earn some money eh un lavoretto per fare qualche soldo facile a dirsi difficile a farsi per voi non è difficile è impossibile we can go to frank chalk ottima idea tracy e ciocca un sacco di lavoro da fare come on let's go si si andiamo pupetta arrivo arrivo e visto che lui non mi ci fa sedere sulla sedia ma parto rio stop singing you're too slow open the box put the chocolates in the box and close it what's happening ah non lo so deve essere la sirena della pausa per il pranzo hey don't stop carry on working open your mouth ah open your mouth posso masticare? open close open close open close open close open close il metto di traverso hey be careful don't drink it it's poison oh mamma mia stavo per avvelenarmi è barechina mmm 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 buona quest'acqua mmm 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 it's for the chocolates i'll come back soon hmmm mmm Lavoratori, posso offrirvi un cioccolatino? Perfetto, perfetto! Ok. Take it, put it down, take it, put it down, take it, put it down, take it, put it down. Ma, ma per tutte le balene avete perso la bussola? No, tutto sotto controllo. Take it, put it down, take it, put it down, take it, put it down, l'ho sempre detto. Take it, lavorare fa male. Typical. Vabbè, io vado al ristorante, intanto qui non si cena. Put it down. Per tutte le balene, se non corro chiude. Stop, I want to get off. Take it, put it down, take it, put it down. Put it down. Ah! Good morning, Mr. Chuck. Quick, children. Close the door, come to work. Hai già venduto un sacco di scatole, eh? Hurry up, it's late. Don't sit down. Don't sit down. Don't sit down. Polpetta, look at the label. Are you crazy? Look! Ma stavi neppendo i cioccolatini con la varichina. È venenosissimo! Oh no, bleach! Però forse lavandoli dentro si può recuperare il cioccolato. Oh, dear. The other box. Un'altra scatola? Ma dove? Hai venduto cioccolatini avvelenati! Ma guarda, disastro! Oh no! Mr. Chuck? Mr. Chuck, are you with us? Ma chi hai venduto la scatola di cioccolatini avvelenati? I don't know. I don't know. Forse ha quella signora grassa che compra sempre le scatole più grandi. Her nose is... Come quello di un aquilo. Polpetta, and her ears are... E sventola, come quello di un elefante. Polpetta, and her mouth is... Come quello di una formica. Someone with two eyes, one nose, one mouth. Due occhi, un naso e una bocca. Allora mi assomiglia. Come on, Polpetta, we must help him. Sì, dobbiamo trovare chi ha comprato i cioccolatini. Let's go, Polpetta, come on. Oh, calma. Si va piano, va saro e va lontano. Allora, ma scatola di cioccolatini avvelenati. Si, l'ha comprato Rick Brauer, il patrone minimarket. No, Rick out. Now, let's see Mrs. Mary Stone. Allora, adesso andiamo da Mary. Yes, that's right, Polpetta. Speriamo che l'abbia comprato a lei. Why? Ma no, mica voglio che sia morta, no. È soltanto che sono stanco. È tutto il giorno che giriamo. Andiamo. Non ci posso credere. Non ci posso credere. In questo periodo ho toccato mille cioccolatini. E non ne ho mangiato neanche uno. Oh, Mr. Redmond, Mr. Fields, Mrs. Mary Stone. E Rick Brauer non hanno comprato la scatola di cioccolatini avvelenati. That's right. Who's got it then? Non so chi l'ha comprato, ma quasi quasi l'ho invidio. Pur di mangiare un cioccolatino lo mangerei anche avvelenato. Oh, Polpetta. E pensare che nonno talpone ogni mese mi spediva una scatola di dolcetti. I'm sorry, Polpetta. Amico è morto. Gira il mondo, suona in una banda rock. Yes! Anche tu vuoi suonare una banda rock? The box. Eh, non abbiamo trovato la scatola di cioccolatini avvelenati. Mr. Choc sent it. Choc ha spedito la scatola. Giusto! Sì, deve essere così! Hai ragione, Tracy! Sì, sì! Poppetta! Oh, è giusto un tempo. Stavano per essere spediti, eh? Yes, let's run to Mr. Choc. Ciao, Ruby! Io ho quasi quasi l'illegale dei rubi. Andiamo! Mr. Choc! Mr. Choc! Two eyes, one nose, two ears. Mr. Choc, is this the box? Yes! Yes, it is! I love happy endings! Well done! Sì, perché non bisogna tenere le bottiglie pericolose vicino alle bottiglie che usiamo per bere. You are my angels! You must always read the labels! Eh, già, se non si leggono le etichette, che ci sono a fare? Tracy, choose your favorite box of chocolates. Oh, ah... Eh... Oh, thank you! Here you are, darling. Oh, thank you! Poppetta, choose your favorite box of chocolates. Eh... Shimo, uh... Take your time. Ah, non c'è fretta! Beh, veramente... Sì, pulire la pentola dove si è sciolto il cioccolato! È la cosa più buona del mondo! Beh, that's right, Poppetta! Ah! Oh! Oh! Oh!